basta oh basta basta con ste minchiate basta oh guarda stavo quasi per dormire poi ho visto l'ultima stronzata su instagram perché stavo vedendo delle cose che mi interessavano un certo momento ho visto un altro articolo di giornale su una pagina di un noto giornale di bandiera ma basta con ste cazzate ma basta con ste fobie iniziando da fedez e da chi gli risponde chi gli va dietro e tutti oggi c'è il giornale è la giornata della transfobia omofobia ma basta con ste fobie ma queste sono tutte follie ma basta con ste cazzate qua ma mica stiamo negli anni 70 ragazzi io ho un parente molto stretto che è gay e vive benissimo oggi nessuno gli rompe i coglioni ragazzi ma oggi in italia c'è roba più importante a cui pensare ma basta con ste cazzate ma non vi rendete conto queste tutte opere di istruzione di massa proprio fare il complottista se dici sta cosa qui allora se anche tu no mask no vax non cazzo cioè basta pure queste sono tutte minchiate strumentalizzazioni di situazioni per creare polemiche perché erettriti mi sembra mi sembra un film non ti rendi conto che è un teatro ma se l'una e mezza ma quando cazzo mai ho fatto una diretta luna e mezza di notte ma basta con ste minchiate porca miseria basta cioè ma lo dico a te ma non per altro perché tanto i giornali perché continuano a farti con lì minchia perché la gente gli va dietro ancora continuano a commentare ho visto sotto quel giornale 700 commenti ma che che poi scrive sotto quelle stronzate lì ma basta ma che giornata è che la oggi è la giornata contro che ne so transfobia omofobia quindi oggi le persone chi è gay oggi deve essere felice gli altri giorni 364 giorni al anno si deve ammazzare ma che stronzata è sta roba qua ma non capite che più parliamo di razzismo più parliamo di omofobia più la creiamo ma chi è che ha creato il razzismo nel mondo ma pensaci un attimo come è nato il razzismo ma già ho visto un po di roba che succedeva nei primi 900 ma anche più avanti in america che proprio lo stato faceva due fontanelle una per i bianchi una per i neri posti sull'autobus una per i bianchi una sui neri scuola per i neri scuola per i bianchi ma uno stato che permetteva una cosa del genere quello era un razzista non la gente che poi si picchiava ancora che parlano eh di razzismo ancora oggi guarda con biden non parla altro di di odio di continua a pronunciare odio 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 uguale qui in italia continuiamo a parlare di omofobia di transfobia continuiamo a parlare come se non avessimo un cazzo di cui parlare come se oggi del nostro presente ovviamente del futuro ci stessero pensando gli altri ci penserà il nostro amico ricciardi che oggi forse tra un po chiuderà questo coprifuoco di merda eh perché il virus come dicevamo fino alle 10 città alla tregua dopo le 10 diventa cattivissimo e quindi i ristoratori stanno lì ancora a farsi prendere in giro dalle istituzioni perché poi le tasse le devi pagare ma che minchiata è ancora leggiamo ste cose qui ancora ci facciamo incantare da sta distrazione di massa ragazzi ma questa roba proprio per per imbecilli perché comunque a dieci anni già capisci che dopo un po' leggi un articolo e neggi un altro ma questi di che cazzo stanno a preoccupare ma qui ci stanno i problemi di vita reale o ma dove sta il razzismo ma dove ma dove sta io almeno in italia non lo vivo ma dove sta per qualche scemo c'è ma ci stanno pure chi fa ci stanno pure i ladri ci stanno pure i tanti altri problemi e allora facciamo la giornata per gli stupratori per quelli che vengono ma non esiste cerchiamo di combatterle le cose iniziando a non parlarne ma a migliorarle a creare la situazione per qui sta diventando un problema occuparci dei problemi reali dobbiamo pensare alle strozzate dobbiamo pensare alle minchiate che non significa non interessarsi della materia di omofobia o transfobia significa occuparci dei problemi che oggi l'italia c'ha perché non so se te lo ricordi a maggio dell'altro anno senza vaccini andava tutto bene tutto riaperto tutto a posto nessuno ha pensato un cazzo siamo arrivati a ottobre a novembre ci hanno richiuso tutti quanti e ci sono persone come i professionisti come gli attori come quelli che stanno appresso nel mondo degli attori che sono 15 mesi che non lavorano elettricisti che ne so facchini macchinisti operatori tutti ma perché gli attori stessi di teatro adesso riaprono ma con un terzo della capienza nei teatri ragazzi ma questa roba reale ma c'è gente che non ce la fa mangiare magari la sovvenzione c'è stata per un per un teatro ma non l'hanno data chi mangia con 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 realmente con la parte che fa ovvero un attore e di che stiamo parlando stiamo a pensare oggi alla giornata mondiale dell'omofobia ma di che ma di che ma perché c'è qualcuno qui in italia che perseguita i trans o o i gay ma non è vero nulla ragazzi io vivo oggi siamo nel 2021 io sta roba qui ma neanche nel 2000 c'era forse ha vissuto qualcosa di brutto renato zero tanta gente negli anni 70 ma oggi oggi è normale normalità ognuno è libero di fare quello che vuole va bene così ma pensiamo oggi ai problemi veri che c'ha una nazione come questa pensiamo problemi veri che c'ha un mondo come questo iniziando a capire che cosa succederà a giugno cosa succederà a luglio cosa succederà agosto se verranno nostri cazzo di stranieri i turisti parlo a turisti a spendere un po di soldi perché per noi è una grande entrata che succederà a settembre ottobre ci richiuderanno funzioneranno sti vaccini perché fino adesso non hanno funzionato perché siamo stati chiusi come l'altro anno fino a maggio quindi quale saranno oggi le azioni che lo stato farà per far sì che la scuola andrà bene non dovremo più comprare tavoli che non servono un cazzo banchi di merda a rotelle andrà tutto bene la didattica a distanza fa bene un piano per il sostegno di tutti gli studenti perché realmente la dad fa danni a destra e sinistra c'è c'è un piano di sovvenzione per tutti cosa succederà quando sbloccheranno i licenziamenti c'è un piano per aiutare gli imprenditori e allora preoccupiamoci di questa roba qua no invece di pensare stronzate e ripeto non perché non sia importante la materia o di razzismo o di omofobia o altro ma non è questo oggi il problema oggi non possiamo che con questa giornata che cosa risolviamo che rimettiamo alla testa della gente questo pensiero che invece di fare una cosa così forse la fai all'opposto basta ragazzi basta io io non sono proprio d'accordo guarda non sono proprio d'accordo e stasera non me ne andavo a letto tranquillo se non condividevo sto pensiero perché vorrei che le persone aprissero gli occhi dobbiamo smettere di farci prendere in giro vogliamo fare una ricerca di verità vogliamo che i giornalisti portino alla luce delle notizie per informarci ok informateci su roba sana perché sennò qui ci sarebbe da bannare proprio realmente da chiudere tutti i follow alle testate giornalistiche parlo delle pagine che hanno e smettere di comprare i giornali e smettere di guardare i telegiornali perché oggi qui c'è sono solo danni prima parliamo di terrorismo quindi insieme ad un altro che tera via intensive oggi che dovremo costruire ricostruire pensare le soluzioni pensiamo alle stronzate io guarda sono veramente stile fatto io io quello che ti dico di tolamia ti dico realmente chiudiamo con questa disinformazione altro che fake news qui stanno bombardando anche una persona sana qui diventa deficiente cioè veramente qui anche una persona sana con sale in zucca cioè uno che vuole costruire una famiglia vuole crearsi un'attività essere riconosciuto sentirsi soddisfatto amare la propria famiglia vedere il futuro ok e quindi vedere serenamente un futuro per me anche quello più più equilibrato va fuori di testa ragazzi dopo 15 mesi così oggi incominciamo a tirar fuori altri problemi dall'america parla di sto cazzo di razzismo e di cuore un po' nei coglioni con questa omofobia perché fedez se ne cita questa roba che se la poteva pure risparmiare perché i problemi ripeto qui sono altri e lui lo sa e qui chiudo il discorso perché non mi va di far polemica però oggi dai basta ma basta queste cazzate no quando è che diventiamo un po' adulti noi parlo noi italiani io ce l'ho con te non ce l'ho con chi scrive gli articoli possono scrivere come gli pare anche se per me andrebbero rivisti e revisionati perché libertà senza censura mi sta bene però quando tu sei una una testata di bandiera quando sei un giornale importante quando sei un telegiornale importante tu non puoi dire dire le cazzate non puoi bombardare le persone o distogliere le persone da qualcosa di importante per me ci dovrebbe essere una linea guida quindi per me non si tratta di censura ma si tratta di buon senso andrebbe applicato un buon senso e quindi oggi in un momento come questo il buon senso è preoccuparci o occuparci immediatamente in questo presente del nostro futuro iniziando a capire che cosa succederà pianificando da qui al prossimo anno che succederà facendo un piano a piano b piano c come fa un imprenditore allora che cosa facciamo quali sono i problemi mancano i soldi cosa possiamo fare per i soldi mancano i posti lavoro o gli imprenditori sono in difficoltà o quando sbloccheranno i licenziamenti c'è il rischio che accadrà questo come possiamo creare degli ammortizzatori come possiamo aiutare gli imprenditori affinché non licenzino ste persone come possiamo far ripartire l'economia come possiamo recuperare i danni psicologici che sono stati fatti alle persone in 15 mesi invece gli articoli quali sono aumentato il consumo dell'alcol a casa del 250 per cento sempre un giornale di questi l'altro ieri grazie al cazzo non puoi uscire a bere c'è gente che purtroppo viene fracassata di terrorismo l'unico modo per non pensare attaccarsi all'alcol allora dagli un motivo per guardare un futuro dagli un motivo per essere felice nel presente senza dover scappare con l'alcol no invece di mettere quell'articolo di merda che non serve a nulla boh io non so guarda no proprio le sto finendo le parole